I carabinieri hanno fermato un russo per i pugni e la morte dell'aggredito in stazioni militari dell'arma della compagnia di Acireale, hanno seguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della Repubblica di Catania nella notte del 14 giugno e hanno fermato il cittadino russo Nikita Gromakov di 25 anni, accusato del reato di omicidio preterintenzionale aggravato. L'indagato il 12 giugno infatti si sarebbe reso responsabile della violenta aggressione nei confronti di Giovanni Leonardi, 61 anni, accese, deciduto poco dopo presso l'ospedale di Acireale per arresto cardiocircolatorio. I militari dell'arma sono riusciti in poche ore a ricostruire la dinamica dei fatti grazie anche all'attività investigativa e al video. Grazie. Grazie.